Cunese di Mondovic, classe 1982, regista con all'attivo due documentari e un lungometraggio. Alice Filippi incarna alla perfezione lo spirito Glocal, appunto da spingere l'associazione Piemonte Movie a sceglierla per guidare il nuovo corso del Glocal Film Festival. La nuova direttrice artistica, prima donna alla guida del festival, raccoglie l'eredità di Gabriele Diverio che consegna il testimone della rassegna dedicata alla produzione cinematografica piemontese dopo otto anni di passione ed edizione. In realtà sono emozionata per essere il direttore del festival, poi donna uomo, io sono dell'idea che ognuno di noi ha le proprie capacità ed è scelto per le proprie capacità e quindi sono per questo punto di vista. Comunque sono molto molto emozionata perché per me è una sfida nuova, una nuova avventura. Diplomata alla New York Film Academy in regia, nel corso della sua carriera Alice Filippi è stata assistente di Carlo Verdone e ha collaborato tra gli altri con Martone, Veronesi, Clint Eastwood, Ron Howard e Sam Mendes. Nel 2017 è esordito alla regia con il docufilm 78 Vai Piano Ma Vinci, presentato al Torino Film Festival e successivamente in concorso anche al Glocal Film Festival. Ho partecipato con il mio primo documentario, quindi ero proprio all'esordio. Ho iniziato a vedere come fosse anche da ospite partecipare a un festival, è stato molto emozionante quando mi hanno proposto di partecipare e devo dire che ritornare da direttore è veramente molto gratificante. Cosa mi piacerebbe fare? Mi piacerebbe creare questo festival facendo diventare più pop, quindi più aperto allargando un pochettino il pubblico perché io credo che il Piemonte, la mia terra, sia ricca di artisti, di professionisti del settore veramente molto in gamba e non solo di location diverse tra loro. Qua siamo in un posto meraviglioso ma ce ne sono divariegati dalle montagne, alle pianure, alle langhe. Insomma abbiamo veramente tanto da offrire e quindi viva il Glocal. Con la nomina di Alice Filippi l'associazione Piemonte Movie che organizza il festival intende ribadire l'ambizione di essere un incubatore di talenti per il sistema cinematografico regionale. Per noi è un grande orgoglio poter avere anche delle figure nuove da rilanciare o da lanciare. Cioè la scelta che abbiamo fatto con Alice c'è un accordo di due anni iniziali che poi potranno anche essere prorogati ma la scelta generale è quella proprio di prendere sempre dei direttori che sono la loro prima esperienza di direzione e fare una sorta di formazione nella guida di un festival. Il nostro festival lo permette, non è un festival nazionale ma non è neanche un festival locale, un festival regionale, un diciamo giocherebbe in serie B se fosse una squadra. E quindi speriamo che invece chi passa da noi possa magari poi diventare un elemento per andare a lavorare poi nei festival anche di serie A. Mi è sembrata la figura più idonea per sostituire Gabriele e soprattutto la proposta che ho fatto poi al consiglio direttivo dell'associazione è stata accolta con molto entusiasmo. È un po' banale dirlo però intanto perché è una donna e non ci sono moltissime donne purtroppo nella direzione dei festival. Però non è questo il motivo principale ovviamente, il motivo principale è la sua bravura, il suo collegamento con il mondo internazionale, nazionale e locale. Lei è una vera figura glocal per noi. Sulla piazza credo che non ci sia un'altra figura di questo tipo al momento per poter rilanciare il festival. Quindi gli daremo le chiavi del festival e ci aspettiamo grandi sorprese, grandi iniziative, grandi novità su questo fronte. La nuova direttrice è già al lavoro per la ventiduesima edizione del Glocal Film Festival in programma a marzo 2023 e per la quale avrà carta bianca. Siamo in fase di brainstorming. Sto conoscendo tutto lo staff, abbiamo fatto proprio un brainstorming insieme per capire i punti di forza e quelli più di debolezza e stiamo cercando insieme di mantenere, portando avanti quello che ha funzionato e di rinnovare il resto. Quindi ci saranno novità.